Cari amici di Democrazia, Sovrana e Popolare, buona domenica. Questa ultima settimana è stata particolarmente intensa e per certi aspetti carica di pericoli. Abbiamo assistito ad una gravissima escalation di dichiarazioni belliciste da parte di personaggi che sembrano oramai aver perso persino quel barlume di lucidità che davamo per scontato. Abbiamo sentito Emmanuel Macron, Presidente della Francia, invitare l'Europa a mandare dei soldati in Ucraina a combattere contro la Russia. Abbiamo poi assistito alla analisi, alle parole del Segretario della Difesa Austin che parlando al Congresso americano ha spiegato che un'eventuale sconfitta della Ucraina determinerà l'immediato ingresso degli Stati Uniti d'America e della Nato in guerra contro la Russia. Non sappiamo se Austin ha rilasciato queste dichiarazioni soltanto per esasperare i concetti al fine di convincere per il tramite di una narrazione isterica e furbesca il Partito Repubblicano a permettere al governo Biden di continuare ad armare Kiev. Come sapete il Congresso ha bloccato gli ulteriori finanziamenti degli americani in favore di Zelensky e il mancato arrivo di questi denari contribuisce certamente a rendere molto più fragile e debole la posizione di Kiev. Dicevamo, non sappiamo se Austin ha voluto esagerare le questioni soltanto per tentare di ricattare moralmente il Partito Repubblicano che si oppone al continuo stanziamento di fondi in favore di Kiev o se Austin pensa davvero di preparare la pubblica opinione americana e quindi europea ad una imminente quanto possibile guerra nucleare contro la Russia. Abbiamo visto come la nostra Premier, Giorgia Meloni, abbia raggiunto Zelensky in Ucraina firmando fumosi protocolli di solidarietà militare che espongono il nostro Paese al pericolo di future e gravi ritorsioni. Abbiamo assistito con sgomento alla richiesta avanzata con rara faccia di bronzo da Zelensky nei confronti del nostro governo di individuare e zittire i potenziali e numerosi filorussi che si annidano all'interno del bel Paese. Sono parole sconsiderate, sono parole pericolose che vanno respinte al mittente. Ci dobbiamo opporre con grande forza e risolutezza al tentativo oramai palese, oramai scoperto di trasformare, di trasfigurare le legittime opinioni politiche in reato, in crimine. La guerra che si sta combattendo in Ucraina non è la guerra degli italiani, non è la guerra degli europei, non esiste una parte che può essere presentata alla pubblica opinione come santificata e vittima ed un'altra invece da raccontare in termini assolutamente sbagliati come demoniaca e aggressiva. I nuovi equilibri geopolitici sono il risultato di fenomeni lunghi e complessi che soltanto i semplificatori grossolani, seriali, mistificatori di professione cercano di raccontare in termini assolutamente sbagliati. Noi dobbiamo prendere sulle nostre spalle il compito di spiegare alla gente la complessità degli eventi. Dobbiamo rifuggire dal bisogno manicheo di separare le questioni e i mondi tra i buoni e i cattivi. Dobbiamo imparare a utilizzare sempre e comunque la logica e il pensiero critico per non finire risucchiati dal vortice del veleno della propaganda bellicista filonato che è bravissima nell'utilizzare tecniche di persuasione più o meno occulta per accicare una cittadinanza da condurre al macello. Abbiamo assistito con altrettanto sgomento alla uccisione di povera gente in Palestina, fucilata dall'esercito israeliano nei giorni scorsi soltanto perché infila nella speranza di ricevere un pezzo di pane o un pugno di farina. In questo caso i sempre molto democratici e civili commentatori occidentali non hanno nulla da eccepire, non hanno nulla da dire e forse perché è difficile addebitare la responsabilità di quelle morti a Vladimir Putin e allora essendo notoriamente molto bravi nell'essere ipocriti i giornalisti occidentali giustificano delle vergognose operazioni di isterminio perpretate dall'esercito israeliano in danno di povera gente e al contempo cercano invece di far crescere nel paese l'odio contro la Russia accusata di tutte le nefandezze e trovano qualsiasi strumento, utilizzano qualsiasi tecnica, si aggrappano a qualsiasi scusa pur di continuare a fomentare la russofobia nel nostro paese. Dicevano che Putin non avrebbe consentito i funerali di Navalny, quando poi invece i funerali sono stati normalmente, si sono svolti normalmente allora hanno spiegato che Putin andava lì per minacciare, per schedare la gente che partecipava ai funerali, insomma mentono di continuo, non sanno più cosa inventarsi per preparare evidentemente la nostra pubblica opinione alla possibilità di un confronto militare diretto con la Russia. La Germania vive un conflitto nel conflitto perché da un lato si tratta di un paese particolarmente esposto nei confronti della Russia, dall'altro però esistono evidentemente pressioni interne che tentano di impedire alla Germania di essere utilizzata ancora una volta come palla da cannone da scagliare contro i russi. Il governo Scholz non sa come uscire da una situazione obiettivamente disastrosa perché i tedeschi sono probabilmente come gli italiani, completamente infiltrati, dominati dall'esterno, dagli Stati Uniti d'America. Nonostante l'opposizione di larga parte di pubblica opinione tedesca che non vuole entrare in guerra contro la Russia, la sudditanza di quel paese controllato e di fatto occupato dagli Stati Uniti d'America costringe il povero Scholz a barcamenarsi, a giurare fedeltà ai padroni anglosassoni pur sapendo di essere alla guida di un paese che non ha nessuna intenzione di riprovare a mettere in piedi una nuova e più drammatica. Operazione Barbarossa. In tutto questo, mentre il mondo sembra palesemente impazzito, mentre le persone cosiddette rispettabili, civili e di potere sembrano non avere più un barlume di razionalità, tocca proprio a noi di democrazia sovranea e popolare continuare a tenere alta nel paese la testimonianza della verità, della lealtà, della giustizia, della logica e del buonsenso. In questo periodo storico rappresentiamo una forza frenante rispetto al male dilagante, una forza che non ho fatica a definire persino catecontica, proprio nel senso più profondo e scatologico del termine, perché se non riusciremo noi a tenere la barra dritta, a mettere insieme, a organizzare la parte migliore della nostra società, quella che rispinge le atmosfere fanatiche tipiche di Neocon, abituate da 30 anni a risolvere i problemi politici attraverso l'utilizzo delle bombe e delle baionette, se non assumeremo su di noi il compito di continuare a testimoniare nel nostro paese una posizione di avanguardia in difesa della pace e della sicurezza del continente, non lo farà nessuno. Per questo vi invito ad essere forti in queste circostanze, vi invito a non farvi vincere dalla paura, dalla disillusione, dalla rassegnazione, vi invito a entrare pienamente nei panni di chi ha la responsabilità di tentare di salvare la sicurezza e la dignità del nostro paese in un momento storico così complicato e pieno di pericoli. Siamo una comunità in crescita, siamo una comunità forte, siamo una comunità solidale, sappiamo chiaramente quali sono le priorità che dobbiamo difendere, abbiamo forza, costanza, lucidità e coraggio per proseguire una battaglia dal valore storico e lo faremo fino in fondo. Non posso assicurarvi rispetto alla certa e rapida vittoria delle nostre posizioni e dei nostri intendimenti, ma so per certo che non cederemo mai, non arretreremo mai di un millimetro perché la coscienza di tutte le persone che hanno compreso e dopo aver compreso intendono lottare non conosce ostacoli e non si ferma di fronte a nulla. Il momento è molto delicato, il momento è certamente difficile, ma noi non siamo da soli, non siamo impreparati, siamo pronti a fare il nostro dovere fino in fondo e io per riuscire a realizzare un'impresa dal valore storico confido sulla forza e sulla partecipazione di ognuno di voi. Grazie!